Cosa? Il classico nell'arte. Dove? Gamek. E' una mostra che riflette sulla classicità, sull'idea del classico e di come la tradizione e la classicità possono essere portatori di innovazione. L'idea di questa mostra parte proprio dal fatto che molti artisti contemporanei, che sono sempre rivolti al futuro, in avanti, a creare delle opere nuove, guardano invece molto al passato la tradizione e soprattutto la tradizione classica. E allora noi ci siamo accorti che questo guardare alla classicità, al passato, non è una guardare alla tradizione in senso retroattivo, ma è guardare alla tradizione proprio per andare avanti. Allora la classicità, dicevamo, è un termine di paragone per il cambiamento e non per la stasi. Così come dal Rinascimento al Neoclassicismo, questa grande altra ripresa della classicità, era l'arte che accompagnava la rivoluzione francese. Quindi un altro cambiamento della storia. E qui appunto in questa mostra noi mettiamo in relazione opere contemporanee che guardano al classico, con opere classiche che vanno dalla Grecia al Rinascimento, quindi nei vari passaggi della storia, della nostra arte, della nostra tradizione, per andare verso il futuro. Grazie a tutti!